Musica Ben ritrovati, un nuovo appuntamento con la nostra concetta informazione sportiva dopo un altro ricchissimo weekend tanti gli spunti, tanti gli argomenti di discussione in particolar modo nel mondo del calcio c'è stato un big match attesissimo, uno a uno tra Napoli e Juventus due squadre che si affronteranno a stretto giro di posta ancora una volta nella semifinale di ritorno in Coppa Italia per il momento finisce con un X la sfida del San Paolo che poteva dire tantissimo in ottica scudetto una pari in rimonta per il Napoli nonostante un gran predominio poi ovviamente tanti altri argomenti, analizzeremo tutto questo attraverso i principali portali di informazione sportiva sui quali andiamo subito partendo immediatamente dal Corriere dello Sport.it che è inevitabile che ritorni sui temi di questa sfida attesissima del San Paolo tra le tante persone che se ne sono occupate c'è anche Fabio Capello il tecnico, ricordiamo ovviamente oltre che ex Milan anche ex Juventus, ex Roma un palmares incredibile per lui e anche una conoscenza tutto tondo del calcio italiano alcuni temi molto caldi del periodo sono stati trattati da Capello in questa intervista dalla Juve messa sotto Torchio dal Napoli, dal Milan dice non si capisce nulla e ha parlato anche di Spalletti sul suo momento di nervosismo e di tensione sull'obiettivo vittoria per il rinnovo contrattuale ha detto io sto con Spalletti tra i tanti argomenti ovviamente Napoli-Juve è il tema centrale con il punto di Alessandro Vocalelli sul Corriere dello Sport dice hanno vinto l'arbitro Sato e il San Paolo un San Paolo che ha colto l'ex di turno Gonzalo Higuain con tanti fischi tante contestazioni Higuain che non ha inciso evidentemente in questa partita c'è anche un tema a margine come vedete sempre nei vari box del Corriere dello Sport si parla già di Roma, Monci-Roma ci siamo, il progetto Mi Piace il nuovo probabile direttore sportivo dei Capitolini che nel frattempo in questo weekend calcistico avendo battuto in scioltezza l'Empoli per 2-0 con la doppietta di Edin Dzeko hanno accorciato verso la Juventus adesso soltanto a più 6, soltanto si fa per dire ma hanno anche allungato il distacco verso il Napoli sono 4 adesso le lunghezze tra i Capitolini e i Partenopei ricordando la parità negli scontri diretti che però sono ancora a vantaggio dei giallorossi in virtù del maggior numero di gol segnati dalla squadra di Spalletti negli scontri diretti per avere un quadro più preciso di quanto è successo nel weekend restiamo sempre sul Corriere dello Sport con questo boxe laterale della trentesima giornata che si è aperta con la vittoria nel sabato primo aprile della Lazio in trasferta in casa del Sassuolo 1-2, non è naturalmente uno scherzo del primo aprile una Lazio che ha vinto in rimonta nel finale di partita poi in serata la doppietta di Dzeko per piegare l'Empoli la Roma quindi ha vinto ancora una volta e poi tutto il carrello gare della domenica del 2 aprile il 2-2 tra Torino e Udinese, ancora una rete importante di Belotti la vittoria del Crotone contro il Chievo 1-2, vittoria importante in ottica salvezza la vittoria della Fiorentina 1-0 nel derby degli Appennini la rotondissima vittoria dell'Atalanta contro il Genoa in trasferta in casa del Genoa una vittoria importantissima oltre che per gli obiettivi di piazzamento di Europa League anche per il simbolo allegorico di Gasperini che andava a visitare il Genoa da ex tecnico vittoria importante anche del Cagliari in tema zona bassa perché è stato piegato ancora una volta il Palermo 1-3 il risultato mentre fa un punticino clamoroso il Pescara di Zeeman contro il Milan tra l'altro Pescara era in vantaggio in serata Napoli Juve 1-1 a che dira risponde Amsic in attesa di Inter Sampdoria la classifica di conseguenza si è mossa così soltanto un punto per la Juventus 74 punti la Roma accorcia 68 il Napoli rallenta quindi a 64 lunghezze e di conseguenza gli si avvicina la Lazio a 60 punti appena dietro la sorprendente Atalanta 58 Inter 55 ma deve ancora giocare e poi il Milan 54 via via tutte le altre fino alla lotta per la retrocessione Pescara ultimo a 13 Palermo 15 Crotone 17 un piccolo balzo verso il sogno salvezza Lempoli è a 22 punti 22 punti ed è in un momento davvero di difficoltà ancora un certo margine ma evidentemente non proprio così tranquillo tornando ai temi prettamente di gara ma non solo i tanti incroci l'altissima classifica dopo il duello tra prima e terza della classe quindi Juventus e Napoli del San Paolo ci si avvicina anche ai duelli di Coppa Italia perché appunto nell'incrocio di altissima quota le prime quattro della classe si affronteranno incrociate visto che Napoli e Juventus vivranno un remake proprio tra tre giorni sempre a San Paolo per il ritorno di Coppa Italia ricordando anche il vantaggio con la vittoria larga della Juventus vittoria anche decisiva è stata quella della Lazio nell'andata sempre della semifinale di Coppa Italia del derby contro la Roma si giocherà sempre all'Olimpico in questo caso sarà in casa la Roma che dovrà provare a recuperare il 2-0 dei laziali e in questo caso sarà la prima partita dell'anno dopo circa 18 mesi senza le barriere allo stadio olimpico ecco perché sono arrivati addirittura gli striscioni per Lotti Roma giallorossa ti ringrazia un ringraziamento al ministro per appunto la rimozione delle barriere è uno dei temi portanti di questa giornata di questi incroci tra le prime quattro della classifica con naturalmente un Allegri che tra tutti il tecnico dei bianconeri di Torino è quello un po' più sereno oltre che una posizione abbastanza vantaggiosa in classifica c'è anche una posizione di vantaggio nel ritorno di Coppa Italia Allegri dice la Serie A è una maratona noi abbiamo fatto un altro chilometro verso il traguardo poi c'è il tema nel tema di Higuain che in tre giorni ritornerà ancora una volta al San Paolo da ex tante ironia sui social per lui tanti fischi tante polemiche Higuain che lancia baci ma viene preso enormemente in giro per i suoi chili in eccesso anche da alcune personalità dello showbiz e poi anche le fotonotizie da Insigne e falso 10 Higuain la serata difficile e anche i numero zero palloni toccati in aria da lui e evidentemente poi le difficoltà anche psicologiche di affrontare la sua ex squadra proprio nello stadio che l'aveva eretto un po' a re e poi naturalmente lo ha abbiurato dopo l'addio di questa estate nella giornata di Serie A poi c'è anche tanto spazio c'è tanta copertina per la tripletta del Papu Gomez che travolge nella cinquina il Genoa con la sua Atalanta una grande performance di tutta la squadra bergamasca anche molto bene il Torino con Belotti che va ancora in gol e riacciuffa il pari in rimonta alla formazione friulana dell'Udinese tanto spazio anche al calcio estero con il Barcellona che va di poker sul Granata poi c'è anche il 2-2 rocambolesco tra Arsenal e Manchester City occasione sprecata per appunto Guardiola ma naturalmente anche tanto spazio al caso Milan perché è un errore difensivo importante permette al Pescara di andare in vantaggio poi Milan riesce solo nel finale del primo tempo ad acciuffare il pari Donnarumma se ne assume la responsabilità dice mi dispiace ma vado avanti per la mia strada tutti i temi che tornano anche sulla Gazzetta dello Sport che si afferma anche su un Balotelli sempre più protagonista in Francia con il suo Nizza e anche naturalmente al padrone del tennis mondiale Roger Federer con il mondo tutto ai suoi piedi e naturalmente all'approfondimento più che approfondito scusando il gioco di parole tra Napoli e Juventus con questo 1-2 di sfide davvero ravvicinate continueremo ad analizzare questa partita in tutti i suoi dettagli ma lo faremo dopo un attimo di pausa nella seconda parte della nostra assegna tra poco grazie a tutti